Ristretto Italiano. Le news dal mondo sull'Italia. Eccoci qui di nuovo insieme. Buongiorno. Il risultato elettorale in Sardegna non è oggi notizia di prima pagina solo in Italia. Trattandosi della prima inversione di tendenza dopo una marcia trionfale di una Meloni che negli ultimi 18 mesi non ha mai fatto cirecca, la notizia sicuramente è di portata internazionale. Uno sguardo a qualche titolo qua e là. Reuters da Londra. La Meloni perde il controllo della Sardegna nella sconfitta elettorale. Alessandra Todde, donna di punto dal Movimento 5 Stelle, già sottosegretaria all'Industria del governo Conte e Draghi, ha superato il contendente di destra per 45,4% a 45% dei voti. E la sconfitta della Meloni è tanto più significativa in quanto era stata lei a imporre la sostituzione del presidente uscente leghista come candidato, imponendo un nome suo. Scelta quanto mai infelice, nonostante lo sconfitto con grande understatement, si sia preso la responsabilità intera sulle proprie spalle. È stata la prima volta dal 2015, scrive ancora Reuters, che il centrosinistra italiano è riuscito a ribaltare una regione dando impulso e speranze ad altre quattro votazioni regionali in arrivo nei prossimi mesi di quest'anno. La coalizione al governo aveva vinto tutte e quattro le regionali del 2023 e controlla ancora 14 delle 20 regioni italiane. Radio France, da Parigi, in Italia, la coalizione di centrosinistra vince le elezioni regionali in Sardegna. Articolo che, a differenza del precedente, parte ricordando che anche in Sardegna, regione storicamente maschilista, in un paese decisamente maschilista, anche in Sardegna, dicevamo, il tetto di cristallo è stato sfondato. Per la prima volta il presidente di regione è donna. Quanto basta, scrive Radio France, per dare nuova vita alla coalizione di centrosinistra e riportare con i piedi per terra la maggioranza di Giorgia Meloni. La destra, e anche questa è una piccola novità, ha ammesso la sconfitta senza tante precisazioni puntigliose. Una prima volta anche per il Movimento 5 Stelle, che ha messo il nome suo a capo di una regione. Giorgia Meloni ha peccato di eccesso, di self-confidence e troppa sicurezza di sé, imponendo il suo candidato a tutta la coalizione e soprattutto alla Lega. Spagna è il diario. L'estrema destra in Italia subisce la prima sconfitta elettorale da quando la Meloni è al governo. L'aura di invincibilità che accompagnava Giorgia Meloni da quando divenne prima ministra un anno e mezzo fa è scomparsa in Sardegna. Un duro colpo per lei che aveva imposto il proprio candidato, come dicevamo, su quello della Lega, mettendo in tensione, se ce ne fosse bisogno, mettendo in tensione i rapporti con il suo alleato Salvini. Ora, con queste novità, i partiti devono mettere a punto le loro strategie per il voto europeo di giugno. e per i due maggiori partiti dell'opposizione questa alleanza si potrà dimostrare vincente. Un campo largo che non era stato realizzato un anno e mezzo fa alle politiche e che invece, vediamo, avrebbe potuto concretamente contendere la vittoria al centro-destra. e SRF, la radiotelevisione svizzera, che titola sconfitta per Giorgia Meloni alle elezioni regionali sulla novità Schlein-Conte insieme per vincere commenta che presto vedremo se il matrimonio darà frutti, ma che gli italiani hanno potuto toccare con mano che anche la Meloni può essere sconfitta nelle urne. Cambio argomento, anche se di titoli internazionali sulla Sardegna, ne avrei molti altri. Una cosa che appare evidente è che per tutti comunque la notizia non è tanto che Alessandra Todde abbia vinto, nei titoli non è quasi mai citata, ma che la Meloni ha perso. Da giorni a risretto italiano sto quasi del tutto ignorando i gravissimi incidenti di Pisa e di Firenze dove la polizia ha manganellato gli studenti in corteo per la Palestina. Recupero oggi con l'autorevolissimo Le Monde da Parigi che titola La violenza della polizia durante le manifestazioni italiane a sostegno di Gaza suscita polemiche. Con una mossa del tutto inusuale, sempre Le Monde che scrive, il presidente Mattarella ha richiamato all'ordine il governo di estrema destra quando Fratelli d'Italia ha difeso gli agenti di polizia. Parlando con il ministro dell'Interno, il capo dello Stato ha detto che l'autorità delle forze dell'ordine non si misura col metro dei manganelli, ma ha dalla loro capacità di garantire la sicurezza tutelando al tempo stesso la libertà di esprimere pubblicamente le proprie opinioni. L'Italia, nonostante siano passati 23 anni, ha ancora ben vivo nella memoria il ricordo di Genova al vertice del G8 del luglio del 2001. All'epoca, la repressione, lo ricordiamo tutti, provocò la morte di un manifestante e il ferimento di centinaia. Tornando a Pisa e a Firenze, i filmati di sabato, scrive Le Monde, mostrano con chiarezza le immagini degli agenti che trattenevano studenti molto giovani, minorenni, con la faccia insanguinata, per manganellarli. E questo, in un paese non abituato a simili attività da parte delle forze dell'ordine, ha creato un grande shock. Torna all'arrivata in Germania con un lancio dell'agenzia di stampa tedesca DPA la storia di Roberto Brazzale, l'imprenditore caseario veneto che per un ramo dell'azienda, quella che produce burro gourmet, assume solo personale dai 60 anni in su. Semplicemente dice e deluso dai ragazzi che in attività come questa non ci mettono mai slancio, mai energie. Una decisione maturata già un annetto fa e della quale non si è mai pentito. I nuovi assunti ultra sessantenni, bene o male, si conoscevano tutti. Tutti erano stati in un qualche modo amici o compagni di scuola in un comune piccolo come lo è Zanè. E così, tra bar in piazza e cene di classe, ha ritrovato l'ex commerciante in oro che aveva dovuto chiudere, Sonia, che non aveva più fortuna col ristorante gestito assieme al marito e come loro tutti gli altri disposti a dimettersi in gioco con rinnovato entusiasmo in un caseificio di successo. Si è sviluppato il pregiudizio che a 60 anni non hai più niente da dire, ha concluso l'intervista brazzale che non si stanca di ripetere come nessun giovane provato abbia mai dato ciò che gli stanno dando questi ragazzi degli anni 60. resta il problema che per questi collaboratori la pensione arriverà fra non molto. Del resto altri nuovi neo-sessantenni si rimetteranno in pista. Per chiudere, non so chi di voi ha visto da Fazio la gag di Crozza che fa Joe Biden. Un video che rilanciato su Twitter gli americani stanno rivedendo a migliaia e ora se ne occupa anche la grande stampa stelle e strisce al punto che Newsweek titola La tv italiana prende in giro Joe Biden con una scenetta brutale. Una parodia che si gioca sull'apparente chissà se reale declino cognitivo del presidente americano dopo che questi ha perso la memoria mentre rispondeva alle domande dei poliziotti sul caso dei documenti riservati della presidenza Obama. E nonostante politici molto vicini e familiari continuino a ripetere che il presidente è in forma perfetta dall'Italia un comico televisivo lo ha preso in giro si parla di Crozza e Newsweek che riporta lo ha preso in giro travestendosi da lui inciampando nei fili sul podio dicendo cose senza senso fino ad arrivare ad aprire una valigetta con un gran bottone rosso mentre spiegava che aveva dimenticato di prendere le sue pillole. pare che la Casa Bianca nessuno si sia arrabbiato a differenza di quanto succede ogni volta a casa nostra e che anzi questo video venga condiviso a più non posso dai suoi detrattori e dai sostenitori di Trump al che Crozza non avrebbe poi fatto quel grandissimo servizio ma questa cosa ce la teniamo fra di voi fra di noi vi saluto vi ringrazio per averci seguiti anche oggi e vi aspetto domani sempre qui alla stessa ora quella che scegliete voi per ascoltare Ristretto Italiano di Ruggero Po